Il convegno di oggi rappresenta sicuramente un momento importante. Innanzitutto porto il saluto del Presidente Massimo Trespidi, che mi ha delegato a essere qui oggi e credo che le parole di Romano Repetti e successivamente le parole del Professor Novolone, che ringrazio per la sempre squisita chiarezza nella sua esposizione, hanno rappresentato e rappresentano sicuramente un momento importante. E' un momento importante perché noi dobbiamo essere bravi come amministratori a riuscire a tramandare alle giovani generazioni quello che è stato. Perché altrimenti tra qualche anno magari non si riuscirà più a trovare persone davanti a quei cippi che ci hanno dato e hanno lasciato di persone, che però ci hanno dato la possibilità di vivere in pace, in democrazia e di darci la possibilità di poter parlare davanti a ognuno senza problemi. Io credo che dobbiamo inculcarlo ai giovani e credo che l'impegno che Giovanni si è preso è condiviso da tutti noi. Quello davvero di andare nelle scuole a spiegare quello che è stato, con la chiarezza che è stata oggi. Ti ringrazio Romano per una cosa. Per in alcuni tuoi passaggi hai ricordato alcune battaglie che sono avvenute tra il Penice e il Brallo. E in quelle battaglie era presente anche mio papà. Perché ha partecipato alla battaglia e parte alla vita partigiana e oggi non c'è più, ma ha dato il suo impegno per liberare le nostre terre dal nazifascismo. E io credo che questo mi ha riportato alla memoria alcuni passaggi, alcuni racconti che lui mi aveva fatto. E credo che questo sia per me un motivo di orgoglio essere qui oggi. Condivido in pieno tutte quelle che sono le scelte dell'ANPI. E ringrazio tutti i rappresentanti, dall'Onorevole Cravedi, il nostro Presidente del Comitato Provinciale, agli altri esponenti degli altri comitati. Ringrazio tutti gli amici dell'ANPI che sono qui presenti oggi. E credo che questo rappresenti un motivo importante. Stiamo uniti, cerchiamo di portare avanti questi valori. Perché solo su questa base riusciremo un domani ancora a avere la possibilità di andare davanti ai nostri cippi. E come disse qualcuno, se tu qualcuno importante, più di me, che era Callamandrei, che disse se volete vedere dove è nata la nostra Costituzione, andate a vedere, andate sulle nostre montagne dove c'è un cippo. Lì dobbiamo dire grazie, perché grazie a loro noi oggi possiamo essere qui. Grazie.